Signora, ascensore rotto da diverso tempo in questa palazzina, lei è prigioniera di fatto in casa, non può uscire? Esatto, non posso uscire, mi sento una sepolta viva, moro prima del tempo, perché ho bisogno di parlare, ho bisogno di vedere, di prendere aria. Invece così sono abbandonata tutto, perché qualche volta vengono le volontariate della Croce Rossa, la chiamo io, gentilmente arrivano. Però devo stare in lista perché non ci sto solo io, mi devo prenotare prima per farmi venire a prendere, se voglio uscire in ufficio, fare qualche compra, qualcosina. Lei chiede ovviamente, nei limiti del possibile, di poter trasferirsi in un'altra palazzina dove c'è quantomeno un ascensore. Sì, esatto, ho il piano della velletta, il piano terra, che non ci siano le scale, perché un giorno fa sono pure cascata, ma c'è anche conciata, che arriva le gambe e mi cedono. Già faccio stare sempre qua, finisco più, non solo l'insufficienza, ma anche questione di muscoli, perché non posso circolare. Lei abita al secondo piano di questa palazzina, ascensore rotto, lei è con le stampelle, come fa ogni volta ad uscire? Mezz'ora, piano piano. Quando devo scendere per forza, che devo fare? Io vivo solo, con me non c'è nessuno. L'avete chiesto più volte di poter riparare questi ascensori? Sì, sì, sì. Che vi hanno detto? Che non c'è i soldi qua, tutto il tuo palazzo che paghiano 9 persone. Cazzetri che li che ne paghiano, non è colpa nostra. È l'ennesima vergogna dell'Ater, dopo gli appartamenti che consegnano e propongono agli evacuati via Lago di Borgiano fuori provincia, addirittura ieri a Montebello di Bertona, adesso c'è questa ultima ciliegina sulla torta, che poi l'amministratore, il commissario manda comunicati stampa smendendo, non smentisce nulla, perché questa è la realtà. Una signora di 70 anni, dove c'è un ascensore rotto da 7-8 mesi, l'Ater non provvede a fare nessun tipo di manutenzione, e la signora è costretta a stare a casa in quattro mura e gli viene vietata quella che è la cosa più bella, cioè la libertà, la libertà di agire, di interagire con i propri amici. Questo non è il terzo mondo, questo non può essere Pescara, che l'Ater si svegliasse, altrimenti se il commissario, se i dirigenti che non sono capaci, che si dimettessero per cortesia.